Che cosa è per voi il lavoro? I ragazzi si assomigliano molto a degli esploratori senza bussole, c'è grande confusione sotto il cielo del lavoro, ci sono tante culture del lavoro, ci sono alcuni giovani che pensano che il lavoro sia un modo per guadagnare qualche cosa, meglio tanto che poco, ci sono dei ragazzi che credono che il lavoro sia una leva per cambiare il mondo, per altri è solo dolore, sacrificio, insoddisfazione, per altri ancora invece è un modo per esprimere la propria personalità e la propria professionalità. Ci sono ragazzi che pensano che il lavoro sia un diritto e aspettano però che qualcuno soddisfi questo tipo di diritto e di bisogno, ce ne sono altri che si muovono, si muovono da soli, gli si accendono delle lampadine, cercano soluzioni, cercano innovazione. Ebbene noi dobbiamo dire che i ragazzi hanno bisogno di guida, hanno bisogno anche di raccontare le loro esperienze e hanno soprattutto bisogno di capire che il lavoro sì, il lavoro dignitoso è un diritto ma è anche un progetto, un progetto personale e professionale che può essere realizzato da soli o con altri. Per realizzare il proprio progetto professionale bisogna studiare, ci vogliono studio e tanta formazione che tornano ad essere il vero ascensore sociale per la promozione anche dei giovani e dei meno giovani. Abbiamo bisogno di laureati certamente, quindi bisogna studiare se le famiglie lo permettono più a lungo possibile, però abbiamo bisogno anche di buoni diplomati, abbiamo bisogno anche di un post diploma con il quale si stanno facendo delle belle esperienze e poi abbiamo bisogno di tanta formazione professionale e questa è la novità, questa cenerentola che diventa principessa. I dati che l'ISFOL ci propone anche nelle sue ricerche, i dati del Ministero ci dicono che la formazione professionale sta conoscendo una nuova stagione di successo, sono oltre 300 mila i ragazzi coinvolti ed è molto buono anche il rapporto e il risultato all'uscita dei corsi di formazione professionale e quindi quello che si chiama il placement di questo tipo di corsi. Abbiamo bisogno probabilmente però di coordinare meglio l'iniziativa delle regioni sui corsi di formazione professionale e abbiamo bisogno che tutte le regioni collaborino secondo una logica di tipo nazionale. Ecco qui la formazione sta conoscendo davvero il proprio ruolo che è quello di includere e quello di promuovere i giovani e i saperi. Una volta si diceva prima si studia, poi si lavora e poi si andrà in pensione. Beh il mondo è cambiato, ora c'è l'alternanza che è la vera regina di questo nostro nuovo mondo del lavoro. Alternanza vuol dire imparare facendo, vuol dire studiare lavorando e questo è molto importante, ce lo insegnano anche molti paesi europei che hanno un bassissimo tasso di disoccupazione giovanile grazie proprio all'alternanza. Alternanza vuol dire fare un po' di ore nelle aule, nella scuola e fare poi molte ore nella pratica, nella concretezza e il sapere si ottiene, si raggiunge attraverso la concretezza, attraverso il fare, che è un fare naturalmente guidato. Bisogna aumentare il numero di ragazzi che vanno in stagio e i tirocini. Bisogna utilizzare molto meglio l'apprendistato nelle sue tre tipologie, l'apprendistato per la qualifica, quello professionalizzante e quello in alta formazione, anche per i laureati. Bene, bisogna anche sapere che imparare facendo vuol dire riscoprire anche il lavoro manuale, non soltanto il lavoro intellettuale e questo è un altro orizzonte, un altro obiettivo che dobbiamo metterci nella testa. Il lavoro dell'artigianato può essere davvero una soluzione all'occupazione giovanile. Ora parliamo di orientamento perché ci vogliono dei Virgilio che ci accompagnino nel nuovo mondo della formazione, nel mondo dell'alternanza, nel mondo del lavoro. Chi sono questi Virgilio? Sono i professionisti dell'orientamento, gli orientatori. C'è bisogno di un maggiore riconoscimento di questa professione. Gli orientatori insieme ai servizi all'impiego ci aiuteranno, aiuteranno voi giovani a destreggiarvi in questa giungla in maniera che voi non vi perdiate e possiate avere una bussola, un sostegno, un accompagnamento. Questi Virgilio, questi orientatori ci dicono che il lavoro è un diritto, ma oggi il lavoro moderno è un diritto ai servizi. La nuova forma del diritto al lavoro è il diritto ai servizi. Questi servizi debbono dirci quali sono i migliori corsi di formazione professionale, quali sono le nostre attitudini, quali sono le nostre strade, quelle che possiamo davvero intraprendere. Qualcuno ci deve aiutare a scegliere, ma c'è anche un modo di scegliere, di scegliere bene e per non sbagliare troppo, anche se c'è una sorta di diritto all'errore. Ebbene, ci sono delle bussole che vanno utilizzate. La prima bussola è quella che ha questi quattro punti cardinali. Il primo è capire quali sono i vostri desideri, i vostri sogni, i vostri interessi. Poi capire quali sono le vostre attitudini, le vostre inclinazioni. Infine capire bene che lo studio deve essere orientato a questi desideri, a questi interessi, ma anche alle vostre inclinazioni. E infine il quarto punto cardinale è avere un'idea di come si sta muovendo il mondo del lavoro, il mercato del lavoro, i settori che richiedono personale e quelli che invece rischiano di essere un binario morto. Ebbene, la prima cosa che va saputa, dopo aver usato questa bussola che riguarda ogni individuo, che è diversa da ogni individuo, è quella di capire che il futuro del lavoro non sarà solo lavoro dipendente, ma sarà lavoro intraprendente, sarà lavoro anche indipendente, autonomo e anche imprenditoriale. E infine bisogna che ci sia un atteggiamento personale molto molto costruttivo. Bisogna sicuramente studiare le lingue, bisogna sicuramente conoscere bene l'informatica, però bisogna anche cominciare a sperimentare il lavoro mentre si studia. Studio e lavoro non debbono essere più separate. Nessun ragazzo deve arrivare a 25 anni senza mai aver visto un ambiente di lavoro. Questo è molto importante. E infine bisogna imparare anche a non lamentarsi di quello che non funziona, ma bisogna essere sempre ottimisti, costruttivi e positivi. Così si è sicuri che la propria scelta potrà ottenere i risultati che desideriamo.